Chiaramente sono entrato nel mondo del cinema grazie a Alfonso, che sarebbe mio zio. Ho avuto sempre occasione di lavorare tramite Alfonso, tramite Kroszcicki. E lì ho fatto le cose più svariate. Tutti i giorni venivi confrontato con questi problemi, con questi progetti. Sentivi, si faceva un film in Bulgaria, Michele Strogoff, si faceva un altro film con Bud Spencer, Livan Cliff, Marco Ferreira veniva, andava da casa, insomma si sentivano le telefonate. Arrivavano anche i cambiali, insomma c'erano problemi economici dappertutto. All'epoca, mi ricordo, c'erano anche le barche. Una si chiamava Totalscope, poi c'era un'altra che si chiamava il Cocesito. Onore a Marco Ferreri. Marco Ferreri si buttava dalla barca vestito, si gonfiava e faceva solo la balena. C'erano pure delle barzellette su queste cose, specialmente Enrico che raccontava una volta che volevano andare a Cannes con la Totalscope e all'altezza di La Spezia era finito il gasolio e facevano la coletta con i marinai per arrivare a Cannes in tempo, che poi non ha mai raccontato se lo facevano per avere o meno. Insomma era divertente. Quando Lombardo ci aiutò non aveva più la distribuzione, però dice ti presento io un distributore che era Angelo Rizzoli Senior. E Angelo Rizzoli Senior ha subito costituito una società con me, malgrado fosse un tipo difficile. E c'era tutto un gruppo di sceneggiatori, i quali lo consigliavano. E una volta c'era un film che noi non volevamo fare fare perché pensavamo che fosse un errore. e abbiamo fatto una congiura, un pranzo con cui l'abbiamo invitato e uno diceva ma quell'idea mi sembra un po' balorda eccetera eccetera. Lui l'ha lasciato parlare due o tre volte, poi ha preso il cappello di felcio, l'ha buttato per terra, l'ha cominciato a pestare come fanno i contadini lombardi, dicendo i dineri sono miei e me li sbatto come voglio. Vabbè altro periodo, altre cose, i produttori, i distributori tiravano i soldi che li avevano in tasca, non c'era questo ricasco sempre all'aiuto dello Stato.